Buonasera a tutti, tutti avete visto il mio video che è uscito questo pomeriggio dove parla delle donne musulmane che vanno a mare molti non sanno che i fondamentalisti hanno addirittura vietato alle donne di andare a mare quindi non ci possono andare né con burkini né senza il burkini che cos'è? è un costume che copre completamente ma lascia viso e mani scoperti molte donne lo mettono per proteggersi dal sole per non prendere diciamo molto sole io personalmente non lo uso come ho detto anche se mi sono convertita vedete l'islam del messia sono convinta che il messia deve venire presto su questa terra e estaurare il suo regno come scritto nella bibbia e nel corano burkini si può mettere anche un pantalone lungo da nuoto? può essere una scelta per chi vuole non si è obbligati a mettere il bichini questa è una grossa sciocchezza chi vieta il burkini in realtà fa un regalo ai fondamentalisti e neanche lo sa è questo il problema quindi con questo è tutto vi saluto grazie a tutti grazie a tutti